Il confronto politico avviato oggi con le organizzazioni sindacali ha gettato le basse per applicare in modo corretto e tempestivo le norme dell'ultima legge di bilancio in materia di personale dei centri per l'impiego. L'obiettivo comune e condiviso è di riportare il servizio all'utente al centro di una rinnovata e vera strategia regionale di contrasto alla disoccupazione, superando tutte le criticità che in questi ultimi anni sono stati determinati da una riforma legislativa risultata alla fine monca. Con queste parole il vicepresidente Antonio Viscomi ha riassunto il senso dell'incontro di ieri con i sindacati sul tema del personale dei centri per l'impiego sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. Le parti presenti hanno anzitutto riaffermato il fatto che i servizi per l'impiego costituiscono il pilastro essenziale di una strategia di contrasto alla disoccupazione in grado di coniugare in modo sinergico sistema delle imprese e mondo del lavoro. La definitiva soluzione prevista ora dalla legge nazionale in merito al trasferimento del personale dei centri alla regione consente finalmente di riprendere un discorso di riorganizzazione prima sospeso dalle incertezze derivanti dalla legge del Rio. I trugiugni fatti dovranno essere concluse. Le procedure previste dalla legge e a tal fine anche per evitare incertezze nel percorso amministrativo è stato deciso di istituire un tavolo tecnico operativo composto dai dirigenti generali, dai dipartimenti, personali, lavoro e bilancio e da uno rappresentante per ogni cicla sindacale. Le parti tuttavia hanno espresso l'auspicio che il presidente Mario Oliverio e la sua giunta possano determinarsi per il consolidamento permanente del tavolo tecnico al fine di assicurare una più intesa partecipazione delle parti sociali nella programmazione dei servizi.